Io sono Gaia Esposito, 17 anni e frequento l'Istituto Superiore Alessandro Rizza. Adoro tutto ciò che in qualche modo stimoli la mia creatività, come ad esempio ballare, scrivere e disegnare. Infatti il mio sogno sarebbe quello di diventare un grafico professionale. Partecipare a questo progetto è stato sicuramente molto importante perché mi ha fatto approcciare per la prima volta a quello che sarà il mio lavoro, a come dovrò comportarmi e le difficoltà che mi inseguono. Nonostante non sia una grande appassionata di teatro, quelle volte in cui ho assistito uno spettacolo ne sono rimasta davvero affascinata. In questo manifesto ho voluto parlare delle persone di nazionalità diverse, rappresentate dalle bandiere, che ogni anno si radunano per guardare gli spettacoli teatrali, unite al simbolo per eccellenza del teatro, cioè la maschera. Lo scopo era quello di evidenziare il tema di quest'anno, cioè che nonostante le differenze culturali. Il teatro è una delle cose che ci rende davvero limiti. Grazie per la visione!